hola gamers e benvenuti in un nuovo video io sono Andy e adesso sto facendo la sua intro e ogni volta perché avvio il video quando tu parli posso avere una spiegazione oppure devo perché sono sicuro ma vabbè dettagli inizia iniziamo subito questa quella mappa più soddisfacente non posso tagliare perché ho fatto la intro proprio mentre parlavi e decisamente modesta me anzi modestamente ho installato una musica che non si può trovare da nessuna parte in pratica l'ho fatta quasi io quello che sentite nei video adesso l'imposte era musica non lo so musica non presa da nessuna parte non è solo una mosca una mosca se una mosca dai fastidio anzi se sei una mosca porti le malattie appunto io ora mi vado da fastidio perché sono una mosca battene no no veramente esci esci no e esci non siamo più amici esci non siamo più amici 3 2 1 ok non siamo più amici finito sono uscito mo ti faccio vedere io adesso esco io esco ok 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 è rientrato cocco bello cocco bello lol adesso mi è apparso un cocco con gli occhiali no cosa no fallo in singolo o in doppio o siamo io e te altrimenti no io non ci gioco no 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 stai tranquillo stai oh aspetta che cosa sta succedendo si sta baggando tutto il mondo adesso vi apparso un caldo non ok il nostro caro vecchio io contro non lo faccio guardare ti ho messo vicino a me proprio siamo nell'autobus siamo vicini con la mascherina però ovviamente comunque quando se se tu guardi i miei video allora più tardi capirai che musica ho utilizzato ma sicuramente l'avrei capito però diciamo che non so come ho fatto ma l'ho modificato tipo io cosa questo nuovo rendo sei muorendo stai muovendo bruciasi world final si siamo delle finali sono delle finali mondiali bene mi stiamo muovendo da solo guatta non sto facendo niente io io uccido il morto uccido il morto uccidere il morto l'italiano ti uccido perché sei morto ma perché non funziona niente perché zio pepe è morto dovrebbe essere morto un certo pixel non il zio pepe ma perché non un hacker che sono hacker nel mio computer sei un biscotto ma perché si muove da solo tra l'altro non ci credo non ci posso credere non ci posso credere mi sento mario adesso che apparsa un mario esatto come dice grazie mi sento mario distraiamo il mortaio che è una persona ora a visita è una penna per me nessuna sicuro 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 Joe sicurosi tc e siciliano si è una visione 1 guarda gli faccio uno scherzetto appenni niente scherzetto adesso deve apparsa sia a te che ho vinto dai sempre meglio che niente non funziona niente nel mio computer neanche il biscotto funziona schifoso hacker se stai guardando questo video si denuncia alla polizia alla bollizia ma si è apparsa una zia con una bolla esatto la bollizia aspetta ma qua c'è energetico adesso funziona una preghiera per energetic qua c'è energetic adesso vi ha passato a fin dance sicuro no 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 88 bit pannolino ci sta distruggendo la cassa esatto adesso vi ha perso un una una console 8 bit dentro un pannolino a christian pixel perché io sono ai fuori ai fuori ai fuori vai muori ai cani con fly lì che l'inglese lì lì che anne e agle bambini se non lo sapevate agli significa a fila quindi ora ecco perché vi appassi un'aquila come a me a pixel educativo perché non vuoi fare il professore a scuola a pixel educativo time tutto 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 me lo copyrightano così no aspetta distruggi la cassetta goodbye il video può finire qua almeno per me sì anche me quindi allora noi ci vediamo alla prossima ciao ciao